bella raga una sera è appena finita la partita juventus bologna abbiamo vinto 3 a 1 soffrendo come avevo predetto nel video precedendo detto la juve vincerà ma se la vedrà brutta perché oggi c'è il giorno d'oggi le squadre non regalano niente si il verona ormai mentalmente era andata e quindi diciamo la vittoria del milan è stata una passeggiata ma perché il verona non è che si è scansato perché ormai mentalmente dopo la sconfitta in casa contro la spalla domenica scorsa era già con la testa in serie b che la serie b arrivata appunto oggi per l'ellas verona comunque voglio fare un augurio agli scalici per una pronta promozione in serie a che dire raga è una partita dove devo fare complimenti anche al bologna perché ha giocato una partita vera è andata nel primo tempo in vantaggio con un rigore che giusto la spinta una stronzata che ha fatto buffon insieme a rugani è stato messo a terra venatti rigore giusto giallo giusto perché ripeto per quelli che pensano in malafede non ci sta più la doppia penalizzazione quindi caro de marco leggi di bene il regolamento di quest'anno direttive fifa e uefa non direttive mie e né della figici quindi se dai rigore come è successo a culibali con la fiorentina dai rigore cartellino giallo dai la punizione ultimo cartellino rosso e quindi ragazzi le regole sono queste caro de marco mi dispiace che sia un ex arbitro ma devi leggere meglio il regolamento forse devi un po giornale prima di parlare in tv perché poi ci sono gente che ti ascolta e ti crede detto questo primo tempo la juventus è partita subito con l'occasione con i guain è avuto un'altra di bala alexandro un grande emirante è una juventus che però è stata scialba e dormiglione diciamo nel primo tempo nel pesa spero che allegri si è fatto sentire quasi sicuramente si è fatto sentire nello spogliatoio e poi ha fatto l'ingresso a douglas costa ragazzi è un fenomeno douglas costa è un fenomeno c'è entra di cambio alle partite almeno in italia fa la differenza ed è un giocatore che questo faceva la riserva al bayern monaco si la ci hanno liberi per carità robin però non so come faceva il riserva al bayern monaco comunque ha fatto il dodicesimo assist se non sbaglio in campionato ragazzi poi ha fatto quella rabona all'ultimo che se entrava cadeva lo stadio e dunque il primo gol è nato da un cross fortunoso di quadrato deviato della propria porta da de maio la juventus mentalmente si è sbloccata in bologna forse avuto un po di pressione anche se avuto il portiere 2 1 con craft grande parola di buffono sul palo e diciamo che un po di fortuna non guasta e il 2 a 1 ancora un cross perfetto di douglas costa per lì è fatta una pavera straordinaria mirante che si è fatto scavalcare dal pallone e che dire a porta vuoto la messa ancora douglas costa va via salta quasi più di due metri per anticipare difensore del bologna va via in velocità la mette all'indietro di balla di sinistro la mette in dentro ventiduesimo gol in campionato per paolo di balla il ventisesimo stagionale dunque una bella stagione anche per la joia bianconera che dire una vittoria importante in chiave scudetto il napoli domani dovrà per forza vincere contro il torino per sperare per sperare perché la juventus comunque a roma avrà una partita difficilissima prima c'è la finale di coppa italia mercoledì io sono un po pessimista su questa finale di coppa italia perché non so mi puzzo un po ma spero di sbagliarmi comunque l'importante è la vincere stasera è stato fatto e ora la palla passa al napoli che in caso di vittori di sconfitta domani sarebbe già campione d'italia però il campionato è lungo e credo che il napoli comunque vincerà contro il torino che dire ragazzi questo video finisce qui sto contento così sempre fino alla fine forza juventus e speriamo che questo è un campionato strano speriamo che questo campionato finisca il più presto possibile sempre fino alla fine ciao a io e grande Douglas Costa